Si torna a sparare a Foggia, dove sabato sera alle 21 circa è stato freddato sotto casa sua in viale Kennedy Salvatore, principe 59 anni di Foggia, detto piede veloce al vertice della batteria Triscioglio, principe tolonese. Secondo una prima ricostruzione sono stati esplosi due colpi d'arma da fuoco, forse da un fucile, uno dei quali ha colpito al volto il boss della società foggiana a sparare un uomo che lo avrebbe raggiunto a piede e poi sarebbe fuggito con una Fiat Grande Punto guidata da alcuni complici, poi trovata in fiamme in via Sprecacenere dall'altra parte della città. La pista più accreditata è quella del regolamento di conti nella criminalità organizzata foggiana o comunque la volontà di fermare il 59enne che a otto anni dalla scarcerazione probabilmente voleva tornare e riprendere il controllo del territorio. Sul fronte delle indagini gli investigatori stanno verificando la possibilità che ci possa essere un testimone dell'agguato. Si tratterebbe di una persona residente nella zona che avrebbe visto un uomo per strada con il fucile. La polizia che indaga sulla vicenda ha eseguito sette esami stub e una decina di perquisizioni a pregiudicati appartenenti alle batterie criminali rivale dei Moretti e dei Francavilla.